I bambini sono speciali in tutto, nella loro ingenuità, nella loro semplicità. L'innocenza e la gioia di vivere. Questo li rende speciali perché non hanno forme precostituite, sono naturali. Non hanno i pensieri. Forse la mancanza di malizia, il fatto che non sono prevenuti, quindi non pensano male degli altri. La verità, loro dicono sempre la verità. Non sono condizionati dal modo di vivere. Hanno più fantasia e si fanno meno problemi perché non hanno ancora immagazzinato una serie di regole, di buon gusto. L'ingenuità, la dolcezza, la bontà. Ma la loro ingenuità e la loro continua voglia di giocare.